Arrestato a Pesaro un 48enne accusato di omicidio Truffa bonus e facciate indagati anche a Pesaro Il mercato delle erbe trasloca in Largo Mamiani Ad Urbino un unisisteme dei fra scienza e talent Nasce il consorzio sportivo pesarese Una buona serata pubblico di Rossini TV Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Edizione di oggi venerdì 10 marzo che apriamo parlando di cronaca E in particolare parlando di un arresto che è stato effettuato all'alba di oggi Dalla squadra mobile di Pesaro che ha condotto nelle carcere di Villa Fastigi Un 48enne di origine napoletana residente nell'Urbinate dove lavorava regolarmente da anni Sull'uomo in questione pendeva un'accusa di omicidio con una pena di 18 anni di reclusione Arrivata la sentenza dell'ultimo grado di cassazione da parte delle tribunale di Napoli E invece atteso a giorni a Pesaro il rientro di Michael Alessandrini Accusato di aver ucciso Pierpaolo Panzieri le 27enne pesarese nella sua casa di Via Gavelli Lo scorso 20 febbraio Alessandrini è attualmente detenuto a Timisoara in Romania dopo la cattura dalle forze di polizia locali Di tre settimane fa dopo una estradizione inizialmente rimandata ad aprile Ora il rientro può essere affrettato dal fatto che Alessandrini non ha legalmente impugnato il provvedimento d'arresto Entro questa settimana Non appena rientrerà a Pesaro sarà predisposta la perizia psichiatrica E parliamo ora di un'indagine nazionale riguardante una truffa relativa alle cosiddette bonus facciate Che vede anche alcuni residenti della provincia di Pesaro Urbino fra eventi indagati dalla guardia di finanza di Treviso Fiamme gialle che hanno effettuato perquisizioni nelle nostre territorie così come in Veneto, Alto Adige, Sicilia e Puglia Arrivando a sequestrare complessivamente 85 milioni di euro tra crediti di imposta, denaro e beni illeciti Secondo gli inquirenti nelle 2021 erano state attivate partite IVA per ditte edili Attestando falsamenti dei veri compiuti lavori che davano diritto al credito fiscale pari al 90% dell'importo dei lavori I crediti ottenuti all'insaputo dei proprietari degli immobili sarebbero stati in parte monetizzati cedendo le banche, società o ditte individuali create ad hoc E lasciamo la cronaca e torniamo a parlare delle puzzle dei cantieri che si sta incastrando nel centro di Pesaro in questo 2023 Ad ottobre infatti partirà la riqualificazione del complesso San Domenico e questo comporterà il trasloco forzato degli ambulanti del mercato delle erbe Dopo le incertezze delle scorse settimane si è deciso il luogo del trasferimento, vediamo Dal chiostro del San Domenico a Largo Mamiani Sarà un tragitto di appena una cinquantina di metri quello che gli ambulanti dello storico mercato delle erbe dovranno intraprendere per ottemperare al trasloco forzato dal complesso del San Domenico Che da ottobre inizierà l'atteso percorso di riqualificazione Tre anni di lavoro per altrettanti di trasloco negli spazi alle spalle del municipio E' questo il risultato del conciliante incontro avvenuto ieri in comune fra gli ambulanti, l'assessore Franco Ellucci e i rappresentanti sindacali di Confesacenti e Confartigianato Il comune ha proposto tre destinazioni e gli ambulanti hanno gradito la prospettiva della galleria di Largo Mamiani Ovvero 200 metri quadrati di locali sfitti laddove erano presenti uffici comunali quali lo sportello in forma e servizi Le altre proposte erano i giardini di fronte alla caserma e alcuni locali inutilizzati in via Gramsci Si è scelto Largo Mamiani in quanto posizione strategica e meno rivoluzionare rispetto alla storia del mercato delle erbe Tant'è che di fatto cambierà solo il lato della piazza Soluzione gradita anche perché al coperto, così come gli ambulanti, hanno gradito altre due garanzie Quella del rientro al San Domenico una volta terminato il cantiere previsto a fine 2026 E quella della salvaguardia del lavoro estivo con il trasloco da effettuare entro fine settembre Sono 200 metri quadrati dove c'era l'informa Giovani, Largo Mamiani Il prezzo dell'affitto annuale è diciamo equo rispetto poi ai 200 metri quadrati Sono sette gli operatori che si spostano quindi poi si divideranno equamente i costi Penso che sia stato fatto un grandissimo lavoro per dare l'opportunità a tutti gli operatori di rimanere in vita Perché lo spostamento noi sappiamo che a livello commerciale crea dei danni molte volte anche incalcolabili E però nei tre anni poi hanno la garanzia di tornare indietro dove erano E questo è un altro ringraziamento che facciamo all'amministrazione La storia e la tradizione è stata garantita, per noi è già tanto Confesercenti dunque coinvolta nel trasferimento del mercato delle erbe Ma anche in una importante convenzione con assicurazioni generali che è stata presentata questa mattina L'accordo prevede forti sconti rispetto alle tariffe che normalmente le assicurazioni generali applicano Rispetto al mondo dell'impresa, al mondo anche del cittadino Perché veramente la convenzione spazia su tutto, quasi tutto il mondo assicurativo Sapete che le assicurazioni in generale tendono ad assicurare ogni aspetto della vita Sia dal punto di vista personale del cittadino che dal punto di vista dell'impresa Le assicurazioni generali, il dottor Bartolucci che è l'agente generale Ha veramente compiuto un grosso sforzo per venire incontro alle esigenze Di quello che sono gli associati di Confesercenti Che ripeto non sono solo imprese ma sono anche cittadini L'accordo prevede la distribuzione dei prodotti generali Quindi tutti i prodotti dedicati alle imprese e alle famiglie Con delle condizioni economiche e normative agevolate rispetto al normale Quindi i prodotti che spaziano dalla protezione delle attività commerciali Alla protezione delle attività artigianali Alla protezione delle attività soprattutto ricettive e turistiche Adesso che andiamo incontro anche forse, spero, a un'esplosione del turismo a Pesero Anche per il 2024 Con prodotti innovativi e condizioni economiche di agevolazioni importanti per i clienti Ed ora ci spostiamo nel territorio comunale di Tavuglia Per parlare di una tematica molto particolare Quella dei bunker risalenti alla seconda guerra mondiale E a Padiglione ce ne sono ancora sette nascosti Che sotto al terreno che viene calpestato ogni giorno Ci siano tratti e reperti storici è ormai cosa certa Così come a Padiglione, frazione di Tavuglia Che da quasi 80 anni a sta parte Conserva sotto di sé sette bunker tedeschi risalenti alla seconda guerra mondiale Una rete di fortificazione difensivistica militare Attribuibile alla linea gotica costruita nel 1944 Che si estendeva per 300 chilometri dal versante terrenico al versante adriatico Sono diversi i bunker che negli anni nella provincia di Pesero Urbino Sono stati recuperati e resi accessibili al pubblico L'ultimo in ordine di tempo quello di Vallefoglia sul monte di Montecchio Dove sopralluoghi e scavi hanno permesso l'accesso A chi desidera conoscere più da vicino la storia del proprio paese I sette fortini tedeschi presenti a Padiglione sono però ancora nascosti al pubblico Andando con ordine uno si trova in strada Casella Tra monte e zona abitata Dove tra fine 2020 e inizio 2021 Un abitante dello stesso paese incuriosito dalla rilevanza dell'argomento Si è messo alla ricerca dell'ingresso del bunker Dopo ore e ore di lavoro è riuscito a trovare l'accesso e a filmarlo dal suo interno Dal quale si può intravedere la sua struttura a volta a botte Un ambiente per circa 3-6 militari tedeschi In grado di conservare munizioni e armi per impedire l'avanzata alleata Altri due invece sono situati in strada Santa Barbara Ed entrambi si trovano seppelliti da una colata di cemento O da un casotto dell'Enel che ne tarpano di conseguenza il recupero Quello presente all'interno di una proprietà privata È l'unico dei sette che è collocato su una collinetta Orientato verso il monte di Colbordolo Zona dell'avanzata delle truppe alleate Per quanto riguarda quello sottostante all'edificio dell'Enel Si vocifera che il bunker avesse tre uscite Due laterali e una frontale Collegata a quest'ultima al fiume Foglia L'unica delle tre rimaste visibile è quella laterale Nel tempo cementificata bloccandone l'accesso Altri due si trovano in via Antonelli Entrambi sotterrati da altre tante abitazioni Che ostacolano ogni tipo di approfondimento Però dal maggiore spessore di un tratto di strada Si può notare come effettivamente dalla botola presente nella proprietà privata Ci possa essere un collegamento con il fossa a fianco In via Enrico Fermi invece Sempre in un'area di un privato Si trova un casotto che circa 50 anni fa È stato edificato su un appezzamento di terreno Quello stesso terreno che da decenni ricopriva l'ennesimo riparo tedesco Che ora si trova a qualche metro di profondità E che necessita di un importante lavoro di scavo Per poter risalire al reperto storico L'ultimo per ordine logistico si trova in via Berlinguer Dove però la costruzione di una palazzina Ne ha completamente ricoperto ogni tipo di accesso e di ricerca Si chiama Unisystem Day Ed è un evento dedicato alla divulgazione scientifica Che oggi ha coinvolti in contemporanea 87 università europee Compresa quella di Urbino Questa mattina l'ha seguito per noi il nostro Paolo Pagnini Per la realizzazione di uno speciale TV Che andrà in onda venerdì 17 marzo alle ore 21.20 Ma del quale vi forniamo un piccolo estratto Amici e amici di Rossini TV Siamo ad Urbino per l'Unisystem Day L'infinito viaggio della ricerca scientifica Andremo a scoprire di cosa si tratta Facendo per voi le domande ai protagonisti E risolvendo ogni quesito Come sempre con le telecamere e i microfoni di Rossini TV Ci sono 30.000 studenti Due continenti Tantissimi paesi in Europa ed extra Gli Atenei hanno sempre risposto in maniera efficace L'Ateneo di Urbino non può mancare in questa occasione Perché sono dieci anni che stiamo costruendo Questo modo leggero Di parlare di cose molto serie Le staminali sono il futuro della ricerca In tantissimi campi Vogliamo fare in modo che ci sia comunicazione Ma soprattutto l'indicazione è che i ragazzi Devono scoprire il talento Il talento della ricerca Il talento delle arti Il talento di comunicare Il talento di credere nelle proprie convinzioni Mi ricordo in un campus americano Qualche anno fa C'erano i cartelli che dicevano More science please Penso che anche l'esperienza del covid La mancanza di una linea in qualche modo condivisa dalla società Su quale fosse la soluzione migliore Era in qualche modo, è stata in qualche modo legata A una paura della scienza che non dovrebbe esserci In fondo molte malattie sono state risolte Anche grazie alla ricerca E ai risultati che si sono avuti proprio in campo scientifico Quindi penso che vedere tanti giovani Potenzialmente interessati a questi temi È sicuramente una condizione che mi dà fiducia sul futuro Scorrendo il programma Già siamo stupiti di questo nome Sofia Tornambere che ha vinto X Factor 2019 E allora, visto che ce l'abbiamo qua Le domandiamo subito perché è qua Qual è il senso della presenza a questa giornata speciale dell'Università di Urbino Il mio obiettivo è riuscire a trasmettere ai ragazzi La voglia di seguire i propri sogni Perché io vengo da Civitanova Una piccola città E con tanta passione e determinazione Si può raggiungere qualsiasi obiettivo Brusio in sala al tuo arrivo Sei abituato? Immagino abbiamo Ricchi Che viene a testimoniare cosa? Cosa vieni a fare qui all'Università? Guarda, io vengo a motivare i ragazzi A portarli, diciamo, anche un po' nel mio mondo Perché qui parliamo di scienza E la cosa bella è invece portare il metodo Quindi la ricerca dal campo musicale E quindi creare un po' connessione con i ragazzi Avvicinarli anche alla scienza ovviamente Quindi con un talent come posso essere io E poi anche a fargli capire Quello che è l'analisi ricerca, sviluppo, concept e progetto Poi prodotto che riguarda una canzone Poi io faccio anche il designer Quindi anche un prodotto Sono laureato in design Il metodo è lo stesso Cambiano gli argomenti ma il metodo è lo stesso Ed ora è il momento dedicato alle vostre segnalazioni Come sempre vi ricordo il nostro numero di Whatsapp Al quale potete rinviare appunto le vostre segnalazioni Lo vedete anche qua sotto in grafica 370-366-7210 In questo caso vi mostriamo i video riguardanti Lo stato di dissesto della strada Ghetto di Trebbia Antico Se li invia Giulia, nostra telespettatrice Che fa un appello ad un'asfaltatura non più rimandabile Buongiorno Questa è la situazione che si presenta Da ormai anni Nella strada di Trebbia Antico Strada del Ghetto Ci sono delle buche profonde Dove le macchine le prendono in pieno E la situazione è così Noi non ne possiamo più Abbiamo fatto domanda per asfaltarle Ma l'assessore e il responsabile del quartiere Non ci vengono incontro Ci sono stati anche degli incidenti Mia madre si è fatta male A piedi E ci sono stati anche diversi danni alle autovetture Questo è il mio appello Aiutateci perché È un problema E oggi 10 marzo ricorre il primo anniversario Dalla scomparsa di Daniele Tagliolini Morto a 44 anni In seguito ad una grave malattia Tagliolini fu sindaco di Peglio Presidente della provincia di Pesaro Urbino E presidente di Marche Multiservizi Come anticipato nei giorni scorsi Comune di Pesaro e provincia Intitoleranno alla sua memoria La scuola ex Morselli Appartenente all'Illiceo Mamiani Attraverso una cerimonia Che si terrà il primo aprile CNA Pesaro Urbino Ha istituito una task force Attraverso tutte le componenti sociali Dell'associazione Un'unione che produrrà servizi pensati Per l'impresa Ma estesi anche ai cittadini e pensionati Che necessitano di assistenza e consulenza Nelle campo sociale e previdenziale E anche per il 2023 Viene confermato a Pesaro Il Lepaglio dei Braceri Il Lepomune ha comunicato oggi le date L'undicesima edizione si trarocca costanza Dalle 27 alle 30 di luglio Annunciata anche una nuova contrada Da quella di Pozzo Che avrà i colori giallo, rosso e nero E il Festival delle Tartufo, Bianchette E del Vino Bianchello di Fossombrone Torna con la sua 39esima edizione Per quattro giornate 18, 19, 25 e 26 marzo Il Festival organizzato da Proloco Forum Semproni In collaborazione con il Comune di Fossombrone Sarà protagonista di un ricco calendario di appuntamenti E dell'opportunità di acquistare e assaporare Bianchetto e Bianchello sia negli stand allestiti lungo corso Garibaldi Sia nei ristoranti dell'Associazione Ristoratore di Fossombrone Che per l'occasione prepareranno gustosi menu a tema E lunedì 13 marzo sarà il decimo anniversario Dell'inizio delle pontificate di Papa Francesco Un decennale che ci viene ricordato da alcuni telespettatori Che lanciano per lunedì l'invito anche alle pubblico di Rossini TV A raccogliersi in un momento di preghiera Rivolto alle pontifici in linea all'esortazione Pregate per me Pronunciata da Papa Bergoglio Fin dal suo insediamento Una società di calcio Una di pattinaggio E una di ciclismo Tre sport diversi Che ora si uniscono in un unico consorzio Vediamo il servizio La tradizione calcistica del Muraglia Il microcosmo del pattinaggio del Torolski Center Il ciclismo della neonata Pisarum Young Riders Tre sport differenti per tre società sportive Che si uniscono creando il consorzio sportivo pesarese Lo fanno mantenendo le rispettive autonomie organizzative Ma unendosi nel rivolgersi ai giovani In una trasversalità d'apprendimento delle discipline Nel valore educativo dello sport E rafforzandosi in un modello consortile più efficace Nell'intercettare risorse E nel relazionarsi col tessuto sociale che li circonda Sinergia e eterogeneità Queste sono un po' le chiavi di lettura Di quello che abbiamo in mente di fare E abbiamo costituito Quindi insieme con una visione Utilizzando quelle che sono le nostre emozioni Le nostre competenze E le nostre capacità di vedere lo sport All'interno della società È il filo conduttore, è la visione, no? È la visione sui giovani È la visione di sviluppo È la visione di sostegno Di tutto questo percorso magico che è lo sport All'interno di tutto il percorso di crescita dei ragazzi La somma di tre forze Non è data dalla reale somma Ma si ottiene sempre un risultato superiore Si vorrebbe, direi per la prima volta forse Cercare di concepire lo sport come metodo educativo Come metodo che aiuti a una nuova socializzazione dei giovani E come metodo che permetta di vedere anche la vicinanza allo sport L'esercizio fisico come non necessariamente rivolto a un agonismo E un agonismo esasperato Ma come modo per socializzare Per fare del bene il proprio fisico Chiaramente questo è come partenza il discorso Quello che peraltro si vorrebbe anche raggiungere E provare a vedere anche con l'unione di altri stakeholder Quelle possono essere le strutture comunali O altre realtà sportive vicine Di provare a crescere anche con il loro aiuto Il 23 aprile è il primo evento sportivo sul campo Che battezzerà il consorzio Seguito nel prossimo autunno dall'organizzazione di un convegno Abbiamo organizzato questo evento il 23 di aprile Che è una domenica Dove tutti e tre gli sport avranno modo di mettersi in mostra Perché comincieremo col patinaggio Dalle 9 del mattino Che farà un'esposizione Una gara ciclistica riservata ai giovanissimi Quindi ai giovani atleti Più delle dimostrazioni dei mini tornei di calcio Per i piccoli amici Per i primi calci Insomma ragazzi dei bambini Delle prime facili età Novolemmi dovremmo fare addirittura un convegno Su tematiche legate allo sport Sia relativamente all'educazione Sia relativamente all'alimentazione Poi vedremo un po' come strutturarci A sostenere il consorzio Confindustria Peso Rubino Attraverso anche la sponsorizzazione DBS Per un'unione applaudita dallo stesso comune di Pesaro Tre realtà che hanno voluto unirsi Perché hanno tutti la stessa voglia e passione Di tramandare quelli che sono i sani valori Quelli dello sport Abbiamo già visto nel 2016 Altre tre realtà sportive unirsi Ed è un aspetto positivo Perché mettere insieme diverse realtà sportive Che credono nello sport Danno la possibilità anche agli stessi genitori Di poter provare diverse discipline sportive E dal consorzio sportivo pesarese Passiamo ora alle società professionistiche Della città Attesi da un sabato di partite molto delicate La UL infatti giocherà domani sera Alle ore 20 e 30 Sulle campo di Varese Mentre la Vista sarà di scena Alle ore 17 e 30 In casa delle Siena Ad aprire il sabato di sport Però sarà alle 15 L'Ital Service e Pesaro All'attesa del via di un tour de force Che approfondiamo in questo servizio Dopo due settimane senza partite L'Ital Service e Pesaro Si tuffa a mani e piedi In un marzo di fuoco Tre partite nel giro di appena sei giorni Prima delle sentitissime Final Four di Coppa Italia Un mese in cui ci si gioca la stagione Per tentare di allontanare i patemi Da lotta a salvezza E magari ammiccare ai playoff Si comincia sabato alle 15 In casa del Ciampino Agniene Che ha gli stessi punti dei pesaresi Ma con una gara in più Questa partita è importantissima per noi Perché dobbiamo pensare alla salvezza E poi se vinciamo contro il Ciampino Possiamo pensare a dare a playoff Ora siamo più o meno al completo E ora sappiamo che il mese di marzo È molto importante per noi Ciampino sarà il primo match Dei tre da affrontare in appena una settimana Martedì 14 c'è infatti la visita al San Giuseppe Venerdì 17 la sfida interna con Catania Poi sarà tempo di Final Four in Coppa Italia La nostra stagione si decida adesso Abbiamo tre partite molto difficili Dobbiamo provare di fare più punti possibili E poi pensare alla Coppa Italia Dopo la settimana di fuoco Il pensiero andrà alle Final Four di Coppa Italia di Napoli Del 25 e 26 marzo Gli accoppiamenti delle semifinali Verranno sorteggiati il 17 marzo Siamo riusciti con merito ad arrivare a questa Final Four Adesso dobbiamo aspettare a vedere con chi giochiamo Le tre squadre Le altre tre squadre sono fortissime E giocheranno tutti e tre a casa Quindi aspettiamo a vedere questo sorteggio Chi esce poi Studieremo sicuramente la squadra E sicuramente andiamo con tutte le nostre forze lì a Napoli Di provare magari a portare a casa questa Coppa Italia Torna in campo dopo la sosta anche di tal service Loretto Basket capoclassifica della serie C Silver Marche Umbria Sabato alle 18 al Pala Flaminia Arriva il fanalino di coda Atomica Spoleto E con questo servizio dedicato allo sport E per la precisione a little service Pesaro Calcio 5 Termina qua questa edizione di Rossini News Ma prima di lasciarvi le previsioni delle meteo Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera Alle ore 21.20 Avremo lo spettacolo integrale Milagnerò Taccendo Uno spettacolo che è stato messo in scena nella serata delle 28 febbraio In occasione delle settimane rossignane Spettacolo integrale ve lo ricordo Ore 21.20 E domani mattina con un sueto appuntamento della rassegna stampa Della provincia di Pesaro Urbino La rassegna stampa delle sabato In diretta alle ore a 7.20 Ci sarà il nostro Marco Cadedu Saremo in diretta sia sul canale Ottanta Che sulla nostra pagina Facebook Sul nostro sito e sulla nostra app App che come sempre vi ricordo di scaricare Rossini TV vicino a te sempre di più Disponibile gratuitamente sia su Google Play Che su Apple Store E potrete vedere tutti i nostri contenuti Seguirci in diretta Ma anche appunto programmi Contattarci Anche inviarci segnalazioni direttamente Dalla nostra app Ed è davvero tutto con questa edizione di Rossini News Io vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti i nostri contenuti Grazie a tutti i nostri contenuti